La giunta comunale convochi subito un'assemblea con la cittadinanza e le associazioni sportive di Como che praticano nuoto per riferire sulla situazione e avere un confronto serio in merito alla piscina comunale di Mugio ma anche alle altre strutture natatorie. E' l'appello che arriva dai consiglieri comunali del Partito Democratico Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Gabriele Guarisco sull'impianto chiuso ormai da sette mesi e sul quale presenteranno una mozione. Nel documento i DEM impegnano la giunta cittadina ad assumere le iniziative necessarie per la riapertura in tempi brevi della struttura di Mugio e a programmare per il futuro gli interventi strutturali necessari e le procedure di rinnovo delle forme di gestione della piscina in modo da evitare il ripetersi di un'interruzione prolungata dell'attività. Finora aggiungono infine i consiglieri del PD le scadenze indicate dalla giunta comunale per la conclusione in tempi brevi di un nuovo accordo con la Federazione Italiana Nuoto sono state disattese. Il 10 gennaio le associazioni sportive e la cittadinanza manifestando pubblicamente il loro malessere per la chiusura dell'impianto hanno espresso la richiesta di un confronto con l'amministrazione comunale ancora però non avvenuto.